Grazie a tutti, sono Filario Finino, sales manager di Labeltec. È la prima volta che mostriamo il logo di Label Expo. Abbiamo venuto con CDS Italia. La macchina è la stessa stessa, ma abbiamo sviluppato tutto il meccanico, il design e il software. Ciao, sono Gabriele D'Onofrio, manager della compagnia e sono qui per introdurare alcuni tipi della macchina. Abbiamo la motorizzazione di rilassare, rilassare e calender. Con l'energia di recuperazione, possiamo rilassare il rilassare e il calender con l'energia produzione dal rilassare. La velocità di velocità è di 350 m per minuto. Abbiamo un modulo extra-table flittinale e un sistema inspeccionale che può detectare messi di label e metric deteczioni, anche su materiale. Con l'energia di full inspeccionale, possiamo detectare messi di label e metric deteczioni, a ogni velocità della macchina. L'energia funziona con un sistema fibro-optic, e se un errore succede, lo stoppa direttamente, sull'energia. e funziona anche con un livello chiaro.